Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi dal titolo BasketBond Sistema Confindustria. Permettetemi di presentarmi, sono Elena Kandu, responsabile per l'internazionalizzazione e competitività delle filiere di Confindustria Lombardia. Oggi, insieme a una bella rosa di relatori, avremo un modo di scoprire uno degli strumenti di finanza alternativa attivo volto a favorire il finanziamento di progetti di investimento. Si tratta di BasketBond del Sistema Confindustria e Piccola Industria, dedicato alle piccole e medie imprese e alle MIPCAP, definito e avviato in collaborazione con Reti Impresa. Io avrò oggi il compito di fare il moderatore di questo webinar, ne sono lieta di farlo. Non vorrei dilungarmi troppo, ho il piacere di dare la parola al nostro segretario generale di Confindustria Lombardia, dottor Dario Voltattorno, per il saluto introduttivo. Prego Dario. Grazie Alina, buongiorno a tutti. Come diceva Alina, sono segretario generale di Confindustria Lombardia. Confindustria Lombardia è la rappresentanza regionale del sistema Confindustriale che raccoglie più di tredici mila imprese sul territorio lombardo per circa 700 mila dipendenti e collaboratori. Quindi attorno a Confindustria Lombardia si raccolgono le nove associazioni territoriali del territorio lombardo. Il mio compito oggi è quello di portare il mio saluto e il saluto di tutto il sistema Lombardo ai partecipanti, ma soprattutto anche quello di dare un piccolo simolo anche in apertura del webinar. Tutti quanti abbiamo visto che abbiamo imparato fondamentalmente che il Covid e la crisi energetica necessitano di avere una taglia, una dimensione importante in termini aziendali, una dimensione che permetta alle imprese di investire, di investire in ricerca e innovazione, in nuovi prodotti, nuovi mercati, una capacità di internazionalizzazione e quindi la necessità di andare sui mercati esteri e sempre di più tema che certamente state affrontando come imprese, come imprenditori, la capacità anche di attrarre e attenere i talenti che sempre di più si fanno fatica a cercare. Ecco, soltanto quelle imprese, quelle imprese più grandi, quelle imprese che riescono a aumentare la propria dimensione, la propria taglia, riusciranno, secondo la nostra visione, a investire su loro stesse. Riprendo una battuta di un discorso di John Kennedy che diceva che lo sviluppo economico è come un'onda che all'interno del mare aiuta e permette a tutte le imprese, quindi a tutte le barche, di fare un salto in avanti. Ecco, l'incontro di oggi vuole presentare quello che secondo noi, secondo me, può essere un piccolo ma significativo, una piccola e significativa onda che permetta alle imprese, le piccole e medie imprese, appunto di fare quel salto che permetta di crescere per poter poi essere più forti, più consolidati rispetto a quelle che poi saranno le sfide che tutti quanti noi dovremo affrontare nei prossimi anni. Non solo certamente la transizione ecologica, la transizione digitale, ma ritorno al tema della transizione dimensionale. Ecco, lo strumento che oggi presentiamo ha esattamente questa finalità, quella di far comprendere alle imprese di piccola e media dimensione come un strumento di finanza come quello che oggi verrà presentato, può essere veramente di stimolo, di aiuto per fare questo salto dimensionale. Quindi termino il mio saluto, ringraziamo tutti quanti, certamente partecipanti, ma ringraziamo anche tutti quanti i relatori del webinar di oggi. Ridò la parola ad Alina che poi passerà la parola alla persona che vedete alla mia destra, Francesca Bruno, però lascio il compito ad Alina. Grazie. Grazie mille Dario, grazie. Poi con noi abbiamo infatti tutta una bella equip che ci parlerà di questo strumento, quindi verrà presentato sia da parte della Ranger, quindi da parte della banca PIMINT, da parte dell'investitore con l'aiuto di Cassa Depositi Prestiti e Medio Credito Centrale e Banca del Mezzogiorno. E per concludere avremo anche un caso pratico riportato dall'impresa già immittente Retex SPA. Come diceva Dario, invece do la parola alla dottoressa Francesca Brunore, direttore area Credito Finanza di Confindustria Nazionale che promuove attivamente lo strumento. Prego. Prego. Grazie, grazie ad Alina Candu, grazie al direttore Valtattorni, grazie a Confindustria Lombardia per aver organizzato questo appuntamento e per questa opportunità di raccontare un'iniziativa del nostro sistema, del sistema di Confindustria nel campo della finanza. Mi piace molto l'immagine dell'onda utilizzata da Revolta Attorni perché è proprio un po' quello che cerchiamo di attivare qui, di far partire un'onda che poi possa montare, crescere e coinvolgere sempre più imprese, sempre più piccole e avvicinarle ai mercati e a canali finanziari alternativi, complementari. Adesso sulla definizione ci stiamo interrogando tutti in queste settimane e la questione è favorire la diversificazione delle fonti finanziarie delle imprese, facendo in modo che le imprese non dipendano più solo dal sistema bancario per il finanziamento delle loro esigenze, non c'è nulla di male ovviamente nel finanziatore bancario, al contrario, ma non tutto può venire da quella fonte, non tutte le esigenze e appunto non tutti i fabbisogni possono essere concentrati lì. Questo è un tema al quale il sistema Confindustria è ora da molto tempo, da almeno dal 2008-2009 con una serie di iniziative importanti che sono state dedicate sia ad attivare nuovi strumenti per le imprese, sia ad attivare un flusso di risorse da investitori istituzionali da famiglie, sia a sviluppare la cultura finanziaria delle imprese che è un fattore abilitante per l'accesso ai mercati da parte delle imprese. Nel contesto di questo lavoro una delle iniziative di maggior rilievo è stata quella della cosiddetta riforma del Bono, l'intervento del 2012 che grazie alla rimozione di alcuni vincoli di natura civistica e fiscale hanno favorito l'emissione di obbligazioni da parte di imprese non quotate. Grazie a questo oggi possiamo essere qui e grazie a una recente novità normativa che è l'introduzione di una garanzia del fondo di garanzia per le PMI che credo che molte imprese conoscano per averlo usato tantissimo, in particolare durante la pandemia anche prima ma soprattutto dopo. Nel 2021 è stata prevista una garanzia del fondo a copertura delle prime perdite, poi ce lo spiegheranno bene i colleghi di Finint dopo, di portafogli di obbligazioni. Questa garanzia è operativa da fine aprile e ci consente oggi di ragionare di creazione di portafogli di obbligazioni perché è importante, è importante perché attraverso i portafogli si può consentire a imprese che altrimenti non sarebbero state di interesse attraenti per gli investitori per via delle loro dimensioni, della dimensione delle loro emissioni, si consente a queste imprese in effetti di emettere delle obbligazioni e di accedere a una fonte finanziaria alternativa al credito bancario. Dicevo questo è un lavoro che abbiamo avviato da almeno diciamo il 2008-2009 che ha già apportato dei risultati, negli anni si è visto un progressivo avvicinamento delle imprese ai mercati, ci sono solo un dato sui mini bond, nel 2022 sono state circa 180 le PMI che hanno emesso per un valore di circa un miliardo. Quindi si è visto effettivamente un flusso diciamo di risorse provenienti da fonti alternative nei confronti verso le piccole e medie imprese e soprattutto si è osservato un importante processo di rafforzamento dei bilanci delle imprese nei dieci anni pre-pandemia. La pandemia è stata una soluzione di continuità perché come tutte le imprese italiane sanno abbiamo avuto anni di sovraesposizione rispetto al credito bancario garantito, garantito dal fondo di garanzia per le PMI, oltre che da SACE, misure molto importanti ottenute dal sistema Confindustria che hanno certamente assicurato la tenuta del sistema produttivo ma che poi hanno ahimè fatto fare al sistema spesso un pazzo indietro rispetto a quel processo di robustimento dei bilanci che avevamo osservato nei dieci anni pre-pandemia. Adesso è il momento di tornare su questo percorso e lo facciamo innanzitutto promuovendo un'iniziativa di sistema dedicata alla creazione di un basket bond. Iniziativa che, scusate provo a condividere una slide alla quale crediamo il basket bond sarà illustrato da Banca Pinint quindi i dettagli darà chi è più titolato a farlo, cioè la Ranger che abbiamo scelto per questa operazione ringrazio Alberto Nobili e Alberto Trivelli che sono collegati Banca Finint è il più qualificato operatore di mercato per questo tipo di operazioni li ringrazio molto per l'assistenza che ci stanno dando per il lavoro che stanno già facendo però prima della loro presentazione voglio dire perché ci crediamo è un'iniziativa che ha un grandissimo valore, un valore per le imprese, un valore per il sistema per le imprese perché consente di fornire una finanza a lungo termine per investimenti strategici per le imprese per consentire alle imprese di affrontare le sfide trasformative che sono in corso le citava dalle volte attorni, quella digitale, quella sostenibile, insomma servono risorse a lungo termine e questo tipo di operazione le può fornire alle imprese consentendo loro però appunto di non mettere tutte le uova in un paniere ma di diversificare le fonti finanziarie e di attivare le fonti finanziarie e pazienti a lungo termine e questo è un fatto determinante rispetto appunto alla frontale delle sfide trasformative ha valore per le imprese perché favorisce un dialogo con gli investitori di mercato sono oggetti diversi dalle banche e è molto importante avviare questo dialogo anche perché questo consente di far crescere le competenze aziendali è un'iniziativa che ha un enorme valore culturale si impara a fare qualcosa di nuovo e si impara a fare qualcosa di nuovo così da poter fare qualcosa di ancora più nuovo le imprese che sono arrivate, le piccole e medie imprese o le Midcap, questa operazione dedicata a entrambe che sono arrivate alla quotazione spesso raccontano come nella loro esperienza e il percorso per la quotazione determinante sia stata l'emissione di un'obbligazione che è stata una palestra per capire come si lavora con gli investitori, cosa serve portare loro, come va riorganizzata la propria impresa al fine di aprire il capitale e dialogare appunto con gli investitori. Infine, questo è un tema molto importante, è un'operazione che assicura grande visibilità e un importantissimo ritorno d'immagine a chi la affronta. Penso che nella testificazione testimonianza che avremo dopo, questo sarà un aspetto che verrà messo in luce perché in genere io racconto dell'esperienza dell'emissione organizzionaria questo contiene. In questo slide c'è una piccola indicazione su cosa non è l'emissione di un bond e l'operazione di basket bond, non stiamo parlando di finanza emergenziale, non stiamo parlando di sua liquidità, non stiamo parlando di strumento per la gestione delle crisi o di una mera sostituzione del credito bancario. È qualcosa di altro che guarda più a lungo termine e quindi non è solo finanza emergenziale. Poi, dicevo, un grande valore per il sistema perché, ed è il motivo per il quale noi la proponiamo, la presentiamo, e lo dicevo in premessa, un portafoglio, un basket consente, l'unione fa la forza, mette insieme imprese un po' più piccole per emissioni di una taglia un po' più bassa che da sole non avrebbero la capacità di interessare gli investitori di mercato. Quindi consente a queste imprese di fare un'operazione che altrimenti probabilmente non avrebbero fatto. Ovviamente per Confindustria un valore di sistema, l'operazione, perché ci consente di coinvolgere le associazioni in tutto il nostro territorio, perché può favorire operazioni di rete e di filiera, perché è il rovescio della medaglia, insegna le piemine delle gare con gli investitori, ma ci consente di fare noi un lavoro nei confronti degli investitori, poi qui oggi ci sono due investitori molto importanti del sistema paese, ci consente di renderci attrattivi per gli investitori e avvicinarli alle nostre imprese. Infine, l'operazione che proponiamo è la prima che utilizzerebbe la garanzia, del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che è una garanzia che abbiamo chiesto e ottenuto noi, è una garanzia potente, molto forte, molto importante, che tuttavia può ancora essere rafforzata, per esempio abbassando la soglia minima di emissioni, che è di 2 milioni, ma questo poi lo diranno i colleghi di Finit, e anche alzando l'importo massimo garantito. Sono temi sui quali Confindustria è al lavoro, ma nel frattempo la garanzia è buona, consente di partire e quindi noi presentiamo l'operazione, cerchi di trovare molto interesse, proprio perché c'è tantissimo valore in quest'operazione. Grazie mille, grazie dottoressa Brunori. Ora con lei abbiamo già gustato un po' su ciò che riguarda lo strumento dal punto di vista dei vantaggi, vantaggi finanziari, vantaggi culturali, fiscali, ma anche un ritorno reputazionale per l'impresa. E pienamente è stato illustrato il motivo per cui Confindustria ci crede in questo strumento e lo promuove attivamente. Prima però di passare, ora faccio il ruolo di moderatore, prima però di passare proprio nel dettaglio di come questo strumento è costruito, che meccanismi ci stanno dietro e l'architettura, in tutti i suoi dettagli, che verrà spiegato appunto dalla squadra Banca Finit, con poi l'aiuto anche con il supporto dell'investitore, vi lascio due o tre informazioni organizzative. Nel corso del nostro webinar potete rivolgere le domande per iscritto ai relatori attraverso la sezione domande e risposte che trovate giù in basso. Queste domande vi prego però di segnalare nome e cognome in modo che nel momento in cui non si riesca a fine webinar, quasi nella sezione Q&A che vedete dal programma, non si riesca a riprendere tutte le domande, possiamo comunque tornare da voi con le risposte anche per iscritto. Quindi ora darei la parola a dottor Nobili, Alberto, Head of Investment Banking Corporate, Banca Finit. Prego, la parola è sua. Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie a Confindustria per aver organizzato questo webinar. Come Banca Finit chiaramente ci fa piacere essere qui alla mennesima esperienza di strutturazione e collocamento di operazioni di basketball. Molto velocemente volevo menzionare che sono stati i primi sostanzialmente a partire con questa tipologia di operazione, operazioni di sistema nel 2014. Ad oggi abbiamo chiuso otto programmi che si basano su questo tipo di struttura che a breve andrò a menzionare. Prima grandi linee poi andremo a calarci nei dettagli della struttura. Otto programmi di basketball chiusi, due programmi di basketball in fase di partenza per un controvalore complessivo di oltre un miliardo e cento milioni dove abbiamo servito più di 350 aziende da MIPCAP e PMI. È con piacere che per la prima volta nei programmi di basketball possiamo sostanzialmente utilizzare una garanzia, quella del fondo centrale, una garanzia che ha una portata nazionale e che ci permette appunto di poter proporre la struttura che spero di riuscire a caricare a video. Un cenno, un cenno, un cenno se è visibile. È visibile. Benissimo. Solo cercando di... Ecco, le operazioni di sistema basketball, nel caso specifico basketball, il sistema confindustria, come diceva prima la collega Francesca Brunori, si ispirano a un concetto fondamentale che è l'unione fa la forza. Quindi sostanzialmente parliamo di un'emissione obbligazionaria per singola società interessata al progetto, che però viene contestualizzata all'interno di un pool di emissioni obbligazionari, andando a interessare quindi più imprese, che possono essere PMI e MIPCAP, interessate a una raccolta alternativa di finanziamento tramite l'emissione di bond. A differenza di un'emissione individuale, il bond viene sottoscritto da un SPV di legge 130, SPV quindi regolamentata da una norma del 69, che è l'ativa che disciplina l'interazione di cartonizzazione, che è andata sempre più ampliandosi nel 2013, contestualmente all'ativa che disciplina la possibilità di emettere i miei bond, è andata a concedere la possibilità di sottoscrivere direttamente bond emessi da PMI. Come finanzia la società veicolo a sottoscrizione degli N bond che vengono emessi da società emittenti tramite l'emissione di un titolo, che vedete definito emissione di un titolo asset back security, cioè garantito dalla pluralità dei conti. Qual è il primo vantaggio che emerge rispetto alla possibilità ovviamente di andare individualmente nel mercato dei capitali da parte delle singole aziende? Il primo vantaggio è sostanzialmente dettato dal fatto che l'investitore sottoscrive questo titolo che è rappresentativo di una pluralità di soggetti emittenti, geograficamente diversificati, sicuramente appartenenti a settori geologici diversi, quindi questo titolo è un titolo ovviamente diversificato che ha intrinsecamente un merito di credito maggiore rispetto a un investimento bilaterale su una singola realtà. generale. La sottoscrizione da parte delle SPV di questi N bond che possono comunque essere sottoscriviti in un arco temporale di unito nel tempo è ulteriormente rafforzata dalla presenza di quella che vedete essere la garanzia del centro centrale. Una garanzia che va a coprire sui singoli bond 80% dell'emissione e ha sostanzialmente un massimale le perdite pari al 25% con un range in realtà di massimale le perdite che va dall'11 al 25% a seconda della probabilità di default ponderata che la pluralità di bond al termine del periodo di costruzione del portafoglio avrà sostanzialmente. Crediamo che ci si attesterà ovviamente nella fascia 20-25% perché le PD indicate dalla normativa per entrare in questa fascia sono sufficientemente basse e crediamo che la maggior parte della popolazione di aziende italiane ricada in PD che ci diano modo di avere questo conforto di uscinetto a copertura delle cosiddette prime perdite pari appunto a un range tra il 25%. Quindi il titolo sottoscritto dagli investitori oltre che a godere l'affazionamento del rischio in quanto si fa riferimento a una pluralità di emittente è anche coperto da un certo livello di perdite che potrebbero ovviamente nel corso della vita dei singoli bond maturare nel portafoglio sottoscritto dalla società di veicolo. Ripeto, 80% sulle singole emissioni fino a un massimo del 20-25%. Il costo, a differenza di prodotti equivalenti che si possono riscontrare nel mercato attualmente nel corso anche degli ultimi mesi, è a nostro avviso estremamente competitivo perché nell'ipotesi in cui ci attestassimo a un cap alle perdite del 25%, il costo per i singoli emittenti sarebbe pari a 37,5 basis point dell'importo sostanzialmente emesso che come vedremo successivamente distribuito questo importo, un attempting da pagare all'atto sostanzialmente della costituzione della finalizzazione del portafoglio, distribuito sulla vita media di singoli bond che crediamo sarà almeno in intorno di 4 anni, da un'incidenza sul costo, sul TAE della singola operazione pari e indicativamente una decina di business point e quindi di gran lunga il nostro avviso è inferiore rispetto a prodotti di garanzia che è attualmente. Per realizzare l'operazione bisogna un tema che verrà sottolineato probabilmente almeno oltre nel corso di questa presentazione, per realizzare l'operazione occorre sostanzialmente correre perché si viaggia sulla base del Temporary Framework di Russia Ucraina che salvo proroghe che attualmente non sono la nostra informazione oggetto di discussione, cadrà il 31-12 di quest'anno. Quindi in questo arco temporale da oggi al 31-12 di quest'anno dobbiamo, come vedremo successivamente in maniera dettagliata, iniziare il dialogo con ovviamente gli emittenti interessati e portare gli emittenti interessati all'attenzione dei singoli investitori. Alcune precisazioni. Ogni emittente ha un suo specifico pricing, dato dal merito di credito specifico della singola azienda che si presenta al progetto, quindi non c'è nessuna forma di mutualismo in negativo nel partecipare a un'operazione di questo tipo qua, ci sono solo vantaggi dettati appunto dalla polverizzazione del rischio e la possibilità di creare questa garanzia a livello della società veicolo, quindi ogni emittente verrà trattato in maniera individuale a livello di pricing e a livello delle singole, diciamo, condizioni che poi vengono seguita nel regolamento. Regolamento che però chiaramente beneficcherà delle varie possibilità e esigenze di tutti i partecipanti all'operazione, quindi l'esigenza del partecipante N ovviamente verrà recepita nel regolamento, sia accettata dall'investitore che ovviamente ha pieno diritto di analizzare il regolamento che noi andiamo a presentare, andrà a beneficio sostanzialmente anche dell'unitente numero uno che è appiccata con la specifica possibilità di, per esempio, da qui a n anni finalizzare un'operazione di acquisizione piuttosto che un'operazione di spin-off che però trova all'interno del regolamento questa possibilità senza necessità di dover andare a chiedere l'autorizzazione entro i limiti che verranno concordati ovviamente con gli investitori che saranno selezionati per realizzare l'operazione specifica. Andrei avanti. a chi si rivolge sostanzialmente l'operazione, parliamo come detto precedentemente di società che qualificano come PMI sulla base della definizione unitaria, oppure MeetCap dove per MeetCap si intende la singola azienda che ha sostanzialmente meno di 400.000. e quindi dicevo che si viaggia in temporary framework, dicevo che si utilizza la garanzia del fondo centrale e conseguenza occorre che l'azienda candidata abbia disponibilità di accedere al fondo che ha un massimale di 5.000 euro per singola azienda del fondo centrale di garanzia che equivale a dire che la singola azienda che è applicata emittente dovrà avere un fondo di garanzia non utilizzato presso il fondo centrale pari a 1,86 milioni di euro perché per legge l'emissione minima, come diceva la prima professora Brunori, è di 2 milioni di euro. Quindi è chiaro che ciascuna azienda dovrà, per candidarsi, verificare con il nostro aiuto, con l'ambito dei colleghi di fronte industria, la proprietà di questo platform, se disponibile ovviamente si sa quanto può essere l'emissione massima che può accadere all'interno ovviamente dell'operazione del sistema. L'azienda deve rilasciare un'autodichiarazione, un'autodichiarazione che ovviamente a seguito dell'attività di Ciofrain ha registrato significative conseguenze, per significative conseguenze a seguito di un approfondimento legale possiamo dire che qualsiasi impacco che possa essere un un incaro dei costi di energia, un rallentamento della produzione piuttosto che delle vendite, un rallentamento dei piani che se era prefissata di raggiungere in base a un determinato business plan, qualifica come significativo, essere significativo quindi da modo di accedere a questa tipologia di garanzia. Dicevo prima che il livello massimo di perdita è fissato sulla base dell'APD, di conseguenza emerge la necessità di dotarsi almeno in sede di emissione dell'obbligazione e non necessariamente mantenerlo di un rating. Come banca finita abbiamo un accordo con Cerved, un accordo a prezzi calmerati per il rilascio una tampon di questo rating che è condizione necessaria appunto poi per il Fondo Centrale per definire quello che è il livello massimo di perdita, il beneficio dell'investitore. La sostanzialmente deadline, come dicevo appunto, era menzionata più volte, salvo proroghe, sarà il 31-12-2023. L'importo massimo dell'obbligazione ovviamente all'interno dell'operazione basket bond non può eccedere 6,6 milioni e 250 euro, questa è la conseguenza del fatto che il profond massimo è presso il Fondo Centrale di 5 milioni, essendo una garanzia pari al 90%, il 6 milioni e 250, il 80% di 6 milioni e 250 sono i 5 milioni di profond massimo che eventualmente una società potrebbe avere qualora non abbia mai fatto ricorso, abbia fatto ricorso in passato il Fondo Centrale e il finanziamento del Fondo Centrale è stato sostanzialmente interamente rimborsato. Il costo della garanzia, lo menzionavo precedentemente, il massimo saranno 37,5 mesi di fondo. Una tantum, chiaramente questo costo è misurato sulla base di un massimale del 5% delle perdite, che potrebbe essere inferiore se il massimale è più basso del 25%. Durata massima dell'obbligazione 8 anni, con possibilità di discutere con gli investitori di un periodo di pre-ammortamento, è un ammortamento che può essere come modulazione del capitale disegnato a seconda delle esigenze delle società, a seconda dei piani di sviluppo e di investimento delle società stesse. Il tasso, ciascuna società avrà modo di decidere se procedere con un tasso fisso o variabile. Come utilizzo dei proventi, essendo ovviamente un'emissione che si dà sull'operazione del Fondo Centrale in un contesto di un riferimento di Ucrania, almeno il 60% dei proventi derivanti dell'emissione del Fondo dovranno essere investiti in un arco temporale pari a 36 mesi, in attivi finanziari o in mobilizzazioni materiali, con materiali e massimo il 40% al sostegno del capitale circolante dell'azienda. Possono esserci situazioni, ovviamente non possiamo gestire situazioni di richiesta di emissione inferiore a 2 milioni, perché ad oggi questo non è consentito dal punto di vista normativo, ci possono essere situazioni dove un'azienda, e sono stati anche in passato, è stata anche in passato, se un'azienda ha un bisogno finanziario superiore ai 6 milioni di 250, oppure qualora avesse già in parte utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia, è superiore a quello che è la possibilità massima di emissione all'interno del contesto dell'operazione di basket bond, nel caso specifico ovviamente si possono emettere un bond per il porto massimo che andrà a beneficiare quindi degli elementi che menzionavo prima all'interno dell'operazione basket bond, è un secondo bond speculare nelle condizioni che può essere collocato al mercato, questo appunto per utilizzare diciamo lo sforzo di redazione di quello che dovremmo essere l'infomemo, cioè il documento con il quale ci si presenta agli investitori dell'operazione basket, anche al mercato e quindi completare una raccolta pari alle esigenze della singola azienda per realizzare i propri piani di sviluppo. Passerei quindi alla slide successiva. Sì. In questa slide abbiamo voluto, accennavo prima, fare una comparazione tra il posto relativo a un'operazione basket bond, sistema confindustria, quindi che ci avvale del posto centrale, e l'equivalente attualmente disponibile, anch'esso fino al posto 12, cioè il supporto Italia con garanzia di saccia. Entrambi prodotti che riteniamo validi, che hanno delle differenze di flessibilità e di portata, hanno una macro differenza molto probabilmente rispettata dal fatto che il basket bond con fondo centrale di garanzia si dota di un massimale alle perdite, un massimale alle perdite che consente quindi di ridurre il costo della garanzia stessa, perché dicevamo prima essere massimo 37,5 basis point, una tantum, che distribuito su una vita legale in un tranquillamento di 4 anni, genera un costo, un impatto a livello di target, 15 basis point. Se andiamo a vedere l'equivalente supporto Italia di Sace, per le PMI un costo stimabile, in quanto il costo della singola garanzia dipende dell'anno da cui ci si trova post emissione, è indipendentemente pari a 110 basis point, per le Midcap addirittura essendo più costoso come garanzia, arriviamo a 180 basis point di costo della garanzia. Chiaramente il supporto Italia insiste su finanziamenti bancari, quindi non è un prodotto alternativo parallelo al canale bancario, quindi come tale se un finanziamento non è registrato in centrale rischi, a differenza di un bond che comunque non viene registrato in centrale rischi e come investitori non vede esclusivamente il mondo bancario, ma un mondo di finanza alternativa, che parleranno successivamente con lei, cassa depositi e merito di rischi. A differenza del supporto Italia, che prevede l'erogazione dei proventi dell'emissione, dell'escrizione del finanziamento in un conto corrente dedicato, da cui far partire i singoli pagamenti elegibili, l'ambito della garanzia in cui ci si muove, il basket bond sistema cofindustria prevede il pagamento dei proventi presso il conto corrente dell'azienda, che poi nell'arco temporale indicato precedentemente, nei 36 mesi successivi all'emissione, dovrà perfezionare quelli che sono gli investimenti idoni, generalmente in mobilizzazioni materiali immateriali e finanziarie. Qual è il processo nel candidarsi? È stato indicato prima, si contatta sostanzialmente i colleghi della territoriale di riferimento, si organizza un kick-off meeting per capire in via di principio l'azienda, l'operatività, i mercati. Noi come banca ha finito ovviamente se l'operiamo prima del cock-off meeting per visionare quelle che sono le informazioni pubbliche disponibili relativamente all'azienda, ovviamente si verifica a caso di equivoci che ci sia quanto serve a livello di disponibilità presso la centrale per accedere all'operazione e si procede ovviamente con i passaggi standard di un rapporto con una banca che sono appunto il EWC, e successivamente a quattro mani con una singola realtà interessata andremo a costruire il cosiddetto InfoPack che è sostanzialmente Fumemo, abbastanza sintetico, che va a descrivere l'azienda, numeri storici, numeri futuri, che l'azienda business spending è stata da tre anni in forma sintetica, che l'azienda crede sia ragionevole conseguire, i prodotti, i mercati in cui opera, i eventuali competitor, la finalità che ha l'azienda, un'analisi dell'attuale fidanziario esistente, con le varie linee di finanziamento a lungo termine aperte, e con questo documento costruito a quattro mani si presenta agli investitori che vengono preselezionati ovviamente ex-ante, cioè all'inizio dell'operazione stessa. Da qua normalmente nascono domande di chiarimento, di approfondimento sui minuti di InfoPack, aspettate dati chiarimenti, risposte alle domande del caso, ovviamente si passa alla revisione di quello che è il regolamento e delle investitori obbligazionali. Le aziende ovviamente, come in un'emissione di bond individuali, dovranno rivedere nel contesto dell'emissione il regolamento, perché è un po' il cuore dell'emissione obbligazionaria, regolamento che viene allegato al contratto di sottoscrizione con il quale si ingaggia la società veicolo a sottoscrivere il bond. L'ultima fase è ovviamente la sottoscrizione dei contratti e lo scambio, il cosiddetto scambio di flussi, quindi l'incasso dei proventi del liceo. È chiaro che avendo una tempistica molto stringente, dettata dal fatto che il 12 Temporary Framework scade, noi dobbiamo intercettare ovviamente le manifestazioni di interesse che entro il luglio, fine luglio, per poi procedere speditamente alla realizzazione di queste persone. se tengo a precisare che lungo il percorso fino sostanzialmente alla conclusione dell'operazione non sono dovuti da parte delle società candidati, sono obbligato a sostenere costi perché la maggior parte di questi costi si realizza solo a successo dell'operazione, l'unico costo che potrebbero dover incorrere nel processo appunto quello del rating che si aggira in intorno di 5 o 10 euro, il rilascio del rating. Tutti gli altri costi si materializzano solo nel caso in cui chiaramente l'operazione si realizza e quindi gli investitori hanno apprezzato positivamente la candidatura della società, la società è contenta del feedback in termini di importo, durata, contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, quali livelli di flessibilità dello stesso e procedono con l'emissione del bond. In conclusione, il processo di analisi normalmente dipende molto dalla stessa azienda, dalla disponibilità dei dati, degli elementi che menzionavo prima, dalla complessità della struttura dell'azienda perché potrebbero esserci aziende più complicate di altre perché non abbiamo nessuna dimensione, una complessità dettata dai mercati di sbocco dei prodotti e servizi più articolata rispetto a altre. normalmente tra preparazione dell'info pack e analisi da parte degli investitori il tempo necessario è l'intorno di due mesi per il servizio. Poi nulla vieta che in parallelo a questi passaggi l'azienda possa già farsi un'idea precisa di quelli che sono i contenuti del prestito obbligazionario che può essere comunque da parte nostra dato in visione all'azienda anche prima del raggiungimento di una delibera positiva o se è una delibera positiva di un feedback positivo da parte dell'azienda sulle condizioni che sono a contorno della delibera stessa. Non mi soffermerai molto su questa slide perché sono tutte cose che ho nazionato precedentemente salvo la misura camerale aggiornata che è un altro dei documenti necessari per far partire un set di preparazione fondamentale informativo per i investitori e credo che anche l'ultima slide sia stata più riprese oggetto di menzione da parte dei colleghi che mi hanno preceduto e riguarda ovviamente i vantaggi di queste tipologie di operazioni che possono essere di bondo, basketbond, ovviamente si va a intercettare una finanza di medio e lungo termine questo è il target, una finanza chiamiamola alternativa o meglio complementare a quella più tradizionale che è il mercato bancario. Essendo una finanza di lungo termine ovviamente mira un rafforzamento della struttura patrimoniale della società e quindi anche un miglioramento del rating, questo congiuntamente alla diversificazione del fondi di finanziamento perché diversificazione dei fondi di finanziamento mette le singole realtà aziendali nelle condizioni qualora un canale di approvvigionamento che ad oggi sappiamo in Italia essere stato con stragrande maggioranza solo esclusivamente quello bancario, un canale di approvvigionamento del debito, si inceppi ovviamente se possa continuare a operare, a investire tramite l'ottenimento di fondi a titolo di debito da parte di canali complementari paralleli a quello che abbiamo notato, uno dei vantaggi anche nei confronti del canale tradizionale bancario è dettato direttamente o indirettamente alla visibilità che un'operazione di questo tipo dà alle società visibilità circa il fatto che la stessa azienda dimostra di riuscire a parlare con degli investitori che non la conoscono, non la conoscono tanto quanto la conosce il sistema bancario di riferimento che da anni magari assiste e quindi la capacità anche di attrarre punti di finanziamento allì fuori di questa cerchia ristretta di investitori che già da anni conosce la realtà aziendale. Culturali perché banalmente lo sforzo di redigere un copac, quello che vediamo aiuta anche un po' a creare un ordine mentale agli interlocutori che possono essere sia corsi o dell'azienda con il quale ci troviamo a collaborare per presentare la candidatura, aiuta a creare un ordine mentale, a creare anche un'organizzazione nel presentare l'azienda, un modo ordinato di farlo e questo vediamo essere anche utile di aiuto in contesti anche più articolati e complessi di quello di un'operazione di prestito obbligazionario quale possono essere operazioni per esempio che abbiamo visto spesso accadere in realtà che hanno fatto un presto obbligazionario sul lato poi successivamente equiti. Dal punto di vista fiscale c'è la piena deducibilità equiparata a un contratto di finanziamento bancario nei limiti del 30% del moll e la deducibilità dei costi. Io Alina avrei completato, spero di essere stato nei tempi. Assolutamente sì e la ringrazio, grazie mille per il suo intervento, abbiamo visto appunto la descrizione e la roadmap che bisognerà seguire e rispettare da parte dell'impresa interessata ad essere in cliente. Ho capito che c'è anche tutta una questione di tempistica di cui tener conto appunto del temporary framework perché ha la scadenza 31 dicembre, quindi prima ci si fa avanti c'è più la possibilità appunto di starci dentro nelle tempistiche. Io qui vorrei soffermarmi solo un secondo per ricordare alle nostre imprese che se sono interessate e hanno appunto l'interesse di essere emittenti, devono rivolgersi alle proprie associazioni territoriali le quali prenderanno contatti con la banca, finito in quanto arranger, quindi colui che può operare sui titoli nella fattispecie. La ringrazio ancora, passerei quindi la parola invece agli investitori, il loro punto di vista e passerei la parola al dottor Prigione Giovanni, responsabile di finanza per la crescita delle PMI, cassa di positive prestiti. Prego. Grazie, grazie Alina, buongiorno a tutti, ringrazio anche Confindustria Lombardia per l'invito. Mi presento, sono Giovanni Frisone, responsabile finanza per la crescita delle PMI, una funzione all'interno dell'area finanza alternativa di cassa depositi e prestiti. L'operatività di CDP nel mercato della finanza alternativa è iniziato nel 2017 con le prime operazioni di basket bond e investimenti in fondi di credito diversificati a supporto delle piccole e medie imprese. Per noi queste operazioni sono operazioni che definiamo flagship perché sono pienamente coerenti con il nostro piano strategico e dimostrano tutte le caratteristiche principali della filosofia di intervento di CDP, ossia l'approccio anticiclico, quindi essenziale in questo contesto di mercato essere sempre disponibili per le imprese, in particolare in un momento, diciamo, in questo contesto storico. La capacità di mixare risorse proprie e risorse di terzi, quindi il blending di risorse nazionali, regionali ed europee unite alla forza del bilancio di CDP, consentono di mettere a disposizione delle imprese un quantitativo di risorse molto molto importante. E il terzo è l'effetto crowding in, ossia la presenza di CDP su questa tipologia di asset class, su questi strumenti, consente di attrarre ulteriori investitori istituzionali e quindi aprire il mercato a diversi soggetti, oltre che CDP chiaramente. L'obiettivo dell'intervento di CDP in particolare sul mercato dei basket bond è triplice. Perché interveniamo in questo mercato? Perché da un lato consente di ridurre il ticket medio di intervento, considerate che CDP fino a pochi anni fa, 5-6 anni fa, interveniva, supportava imprese tipicamente con un fatturato superiore a 500 milioni di euro. Pian piano questo limite si sta abbassando, sta venendo meno e grazie in particolare alle operazioni di basket bond riusciamo a finanziare imprese di dimensioni sempre più piccole. Negli ultimi anni il ticket medio di intervento si è ridotto notevolmente, arrivando anche a importi minimi di qualche milione di euro e quindi con l'obiettivo di ampliare, raggiungere un numero sempre maggiore di imprese di dimensioni minori. Il secondo obiettivo è quello di incentivare chiaramente l'accesso al mercato dei capitali. Questo perché in maniera autonoma molte di queste imprese che accedono al mercato dei basket bond probabilmente da sole non avrebbero la forza di farlo per i costi e per i vincoli che vengono determinati da un'emissione singola. In maniera aggregata all'interno di un paniere di basket con più emittenti, l'impresa riesce ad accedere al mercato dei capitali a diversificare le proprie fonti di finanziamento. Il terzo motivo è quello di facilitare l'accesso al credito delle PMI su durate medio-lunghe. Tipicamente il canale bancario non riesce più ad arrivare a durate molto lunghe. Sui basket bond riusciamo ancora a mantenere delle durate che consentono alle imprese che devono effettuare degli investimenti ad ampio respiro, ad ampio spettro, di avere un termine più lungo, magari anche con un periodo di preammortamento, per poter mettere in pratica, mettere a terra questi investimenti e quindi attraverso l'allungamento delle scadenze rientrare con tranquillità rispetto a quel debito contratto. Sui basket bond abbiamo due linee di operatività. Quelle che noi denominiamo con fondi pubblici è un'operatività a mercato. L'operatività con fondi pubblici, denominata anche basket bond secured, si riferisce a tutti quei programmi che prevedono la presenza di una garanzia strutturale di prima perdita. In passato ne sono stato un esempio virtuoso i basket bond regionali in Campania e Fuglia, dove le regioni hanno messo a disposizione delle risorse della programmazione europea per facilitare l'accesso al credito delle PMI del territorio. Questa è una linea di intervento attivabile facendo leva sulla nostra qualifica di istituto nazionale di promozione che ci permette di collaborare in piena sinergia con le regioni e le finanziarie regionali per sviluppare questa asset class. Il fattore abilitante di queste operazioni è proprio rappresentato dal cash collatra, ossia dalle risorse che le regioni hanno messo a disposizione a copertura delle prime perdite che vengono registrate sul portafoglio. Nei basket bond regionali è importante sottolineare l'effetto leva implicito in questa tipologia di operazioni, ossia per ogni euro che la regione mette a disposizione del basket bond vengono mobilitate 4 euro, quindi una leva 4 per di risorse in favore delle imprese. La seconda area di intervento di GDP è quella che noi chiamiamo basket bond a mercato, ossia cartoralizzazione di mini bond emessi da PMI e mid cap con una buona o solida qualità creditizia che sono destinate a supportare i piani di investimento delle imprese e che non beneficiano di garanzie strutturali di firma perdite, quindi proprio per questo il motivo per cui ci rivolgiamo a imprese di una qualità creditizia e di una solidità più ampia e più robusta rispetto a quelli dei basket bond regionali. A partire dal 2017 come CDP noi abbiamo preso parte praticamente a tutte le operazioni lanciate sul mercato in Italia, abbiamo partecipato a 11 programmi di basket bond tra secured e unsecured che hanno visto coinvolte più di 200 imprese per un controvalore di circa un miliardo di euro. Nel 2023 vogliamo continuare su questi finolini di intervento, in particolare sui basket bond secured, stiamo lavorando a due nuove linee di operatività, una in continuità con quella passata sui basket bond regionali, quindi replicare i casi di successo di Campania Puglia, anche ad altre regioni e stiamo lavorando a questo nuovo programma che hanno poco fa perfettamente spiegato i colleghi di Finint che appunto è la prima volta in cui viene innestata la garanzia del fondo centrale di garanzia su programmi basket bond e quindi noi stiamo definendo gli ultimi dettagli per la presentazione dell'operazione al nostro CDA e lavoreremo insieme ai colleghi di MCC in qualità di coinvestitori e quelli di Banca Finint in qualità di Arranger e di Confindustria come promotore dell'iniziativa per poter appunto far sì che questo programma abbia il più alto numero di partecipanti e la più alta visibilità e risalto. A nostro avviso questo fine di operatività sarà il principale nel corso del 2023 proprio in ragione del nuovo contesto in cui ci troviamo ad operare. I tassi di riferimento sono in salita e proprio oggi ha confermato un ulteriore incremento di 0,25 punti la BCE e quindi queste forme di garanzia che consentono una mitigazione del rischio e quindi la possibilità di applicare dei pricing che tengano conto della garanzia e quindi dei pricing tra virgolette calmierati rappresenta a nostro avviso un importante elemento per consentire alle imprese di crescere e non bloccare i propri piani di investimento. In questo contesto pertanto e vado a chiudere noi continueremo a sostenere l'accesso al mercato dei capitali delle PMI sia in qualità di promotore di nuove iniziative che in qualità di ancora investor in quanto a nostro avviso questi strumenti rappresentano oltre a strumenti alternativi di finanziamento anche strumenti di education finanziaria e di managerializzazione per le imprese di dimensioni medio piccole che vogliono crescere e vogliono strutturarsi per un percorso perché no che poi li porta ad avere anche degli obiettivi un po' più ampi e ambiziosi come può essere la quotazione. Grazie a tutti e lascio la parola ai prossimi relatori. Grazie dottor Frisone e perché no cambiare anche la dimensione dell'azienda sempre più grande sempre più forte e sempre più ambiziosa giustamente. Messaggio chiaro e chiave penso io è proprio per bloccare i rischi e mitigarli continuando a sostenere i programmi di investimento. in questo momento sentiremo anche il suo collega dottor Proietti Pierpaolo signor banker special ah no mi scusi che c'è stato un cambio di programma abbiamo dottor Coletta Lorenzo responsabile di special deal e finanza innovativa di medio credito centrale banca del mezzogiorno prego. Grazie Alina e grazie a lei grazie a Confindustria Lombardia che ci dà l'occasione di presentarci a una platea così importante e ricca e spiegare qual è sostanzialmente la missione di Medico Dio Centrale che è una banca detenuta dal MEF per mezzo di Invitalia che è l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo di impresa e sostanzialmente darci l'opportunità di specificare cosa facciamo rispetto a quella che è la nostra mission, il nostro core business per supportare la crescita delle imprese attraverso varie strutture della banca in particolar modo per quello che riguarda il corporate lending vis-à-vis e in particolare invece per quella branca che appartiene alla mia responsabilità che è quella della finanza innovativa, ossia all'interno di questo mondo la sottoscrizione delle missioni obbligazionari che vengono definite basket bond di sistema. Con i colleghi, ma amici mi sentirei di dire, di CDP è finito, collaboriamo ormai da tempo su diversi programmi. Come correttamente diceva Giovanni, loro sono stati la pripista di un filone di business che ci ha visto sostanzialmente seguirli nel solco che loro hanno tracciato per primi e con i quali ci rapportiamo quotidianamente nel supportare una serie di iniziative, soprattutto dei basket bond regionali da ultimo, Puglia, Campania ed altri che si stanno avrendo e collaborare invece con i colleghi di Finint sia dal lato dell'investitore ma anche di Coarranger in alcune attività, soprattutto sui basket bond secured con la garanzia pubblica, quella dei regionali. Quello che abbiamo visto nella nostra esperienza sino ad ora del vantaggio che ha questo tipo di strumento rispetto alla capacità comunque a fine di sostenere la crescita delle imprese è dovuta soprattutto alla peculiarità dello strumento, ossia dare la possibilità anche ad imprese di non grandissime dimensioni che probabilmente da sole non avrebbero potuto affrontare questo tipo di iniziativa di essere coinvolti in un programma ed un progetto che le consente di affacciarsi ad un mondo, quello del private debt sostanzialmente, che sempre di più era stato riservato in passato alle grandi aziende, sia per ragioni di dimensioni sia per ragioni di costo. Il fatto invece di creare delle strutture come quelle del basket bond consente alle PMI e alle Midcap con dei costi contenuti di poter comunque alla fine beneficiare tutti quelli che sono i vantaggi di un prodotto del genere, che per durata e tipologia spesso hanno bisogno di masse critiche molto più importanti. Invece la possibilità di strutturare questo tipo di iniziativa con due investitori istituzionali della importanza di CDP ed MCC consente a grandi parti di imprese sostanzialmente di poter avvantaggiarsi di questo tipo di finanziamento, che sostanzialmente come è stato correttamente detto ha delle durate molto lunghe, si parla di circa 7 anni, con delle finali di acqua degli investimenti che difficilmente trovano riscontro nel corporate lending classico vis-à-vis, in realtà dove spesso non c'è la richiesta di garanzie alternative oltre a quelle che vengono concessi all'interno dei basket bond di sistema. Ragione per la quale guardiamo con grande attenzione a questo tipo di strumento che stanno mettendo in piedi i colleghi di Finint perché da un lato ovviamente interessa lo strumento e la capacità che ha comunque alla fine di spiegare i suoi effetti benefici e dall'altro comunque alla fine anche l'opportunità che ci consente di impiegare ancora di più risorse al servizio del paese e vedere sostanzialmente una ricaduta positiva in termini di crescita e sviluppo del benessere del territorio su quale inseriscono le imprese prima ancora della crescita economica delle stesse, sostanzialmente la ricaduta positiva che abbiamo visto in termini di benessere per i stakeholder che appartengono alle imprese che appartengono a questo tipo di prodotti è sicuramente molto interessante per noi. Quindi sulla scorta di quanto già ampiamente detto da amici Giovanni e Alberto, evidentemente anche noi stiamo guardando in questa fase questo tipo di prodotto e lo porteremo all'attenzione degli organi deliberanti medio credito centrale al più presto in modo tale da renderlo immediatamente operativo anche in ragione della tempistica alla quale lei faceva riferimento e la scadenza del 31-12-2023 che è imminente e quindi sostanzialmente dotarsi delle risorse necessarie per attivare il programma e poter intervenire nel sistema. La ringrazio. Grazie a lei dottor Coletta. Nulla togliendo per importanza dell'intervento che abbiamo adesso ascoltati sicuramente presenta anche un enorme interesse da parte delle imprese sentire le testimonianze di un'impresa già iniziente. Quindi a questo punto passerei la parola a dottor Bonomo che è il CFO di Retex, SPA, di condividere con noi la sua esperienza sia di tempistica, difficoltà oppure un vantaggio che ha portato a casa nel momento in cui è salita a bordo. Grazie Linda, saluto i partecipanti e ringrazio il Confindustria dell'invito. La testimonianza piacevole è stata un'esperienza sicuramente formativa dal mio punto di vista, essendo poi il responsabile primo dell'operazione. Racconto brevemente il percorso finanziario di Retex per far capire in che momento si è collocato il basket bond che vede come investitori istituzionali, Cassa Depositi e Prestiti e Filombarda. La Retex nasce nel 2010 da manager che avevano l'intenzione di avviare un percorso di crescita non organico attraverso acquisizioni. Ha tentato un primo percorso di equidi fin dall'inizio che non è riuscito e quindi abbiamo approcciato il mercato della finanza in maniera piuttosto tradizionale col sistema bancario. Abbiamo fatto delle operazioni di acquisizione positive con aziende che avevano sostanzialmente delle redditività molto buone che consentivano sostanzialmente di gestire la leva in questo modo. C'è stata poi un'operazione di equiti quando il gruppo aveva raggiunto le dimensioni intorno ai 20 milioni di volume d'affari, una piccola operazione da 4 milioni che ha consentito di fare una seconda wave di investimenti e di portarci intorno ai 45 milioni di volume d'affari. Nello stesso tempo avevamo pensato anche a un possibile percorso borsistico e quindi siamo entrati nel percorso triennale di elite, siamo tuttora partner di elite e nell'ambito delle sedute di formazione di elite sentì parlare del basket bond. In quella fase con un'azienda intorno ai 45 milioni d'affari e con l'intenzione di proseguire il nostro percorso di crescita inorganica proposi a un advisor che ci seguiva fin dall'inizio di valutare l'operazione del basket bond perché per dimensioni e per opportunità mi sembrava forse il momento più adatto. L'ho considerata, come è stato già detto prima, come un'operazione che aveva due scopi principali. Da una parte fare un po' di marketing finanziario per il gruppo Retex e questo è sicuramente avvenuto perché poi spiegherò anche le dimensioni dei bond che abbiamo fatto e dall'altra costringerci in un modo o nell'altro a strutturarci un pochino di più nella comunicazione finanziaria e nel rispetto delle regole finanziarie che sono un pochino più rigide nell'ambito di un'emissione di bond rispetto al tradizionale rapporto bancario. Noi ci siamo affacciati al basket bond con una richiesta di 10 milioni. La richiesta era sostanzialmente accolta come volume di disponibilità per supportare il nostro gruppo ma c'era poi un tecnicismo che impediva sostanzialmente a cassa di depositi e prestiti di, non potendo essere banca primaria in queste operazioni, di non superare certi valori. Per cui con gli amici di Fininte che ci hanno seguito in maniera veramente egregia abbiamo strutturato, e credo che sia stata la prima operazione di questo genere in Italia, una doppia emissione gemella, la prima col basket bond di 5 milioni, la seconda operazione è una raccolta mini bond più tradizionale, sempre di 5 milioni, dove in entrambi i casi la Ranger è stata banca fininte e il regolamento e il contratto erano gemelli, quindi formulati nello stesso modo. Questa operazione di finanza straordinaria ovviamente ci ha permesso di proseguire il nostro percorso di crescita, di investimento su società che abbiamo portato all'interno del gruppo, il gruppo chiude il 22 con 90 milioni di giro d'affari e proietta i 100 nel 23, quindi uno strumento che abbiamo ritenuto indispensabile, stiamo pensando ancora di andare oltre con questa tipologia di finanza straordinaria, perché comunque se si trova, come è successo per noi, un Ranger tipo Finint molto disponibile ad aiutare la società e bisogna anche dotarsi di un advisor che ti supporta perché c'è una metodica che bisogna importare nell'azienda perché non si nasce imparati, è un percorso assolutamente fattibile, non posso nascondere un po' di preoccupazione all'inizio perché non l'avevo mai affrontato, però devo dire che sono stato seguito molto molto bene e quindi per noi è stata un'esperienza positiva tanto che stiamo riconsiderando una possibile nuova missione e lo ritengo uno strumento molto molto utile per avvicinarsi, come è stato detto anche prima, a una possibile quotazione perché ci si abitua ad un linguaggio, una metodica, un certo rigore nella gestione della finanza aziendale che poi diventa indispensabile nel momento in cui si entra in borsa. Per lo meno nel nostro percorso ritengo molto importante il supporto che abbiamo avuto dall'arranger, in questo caso da Banca Finint, la nostra unica esperienza è stata questa qui, però in entrambi i casi, in entrambi i bond, noi ci siamo trovati molto molto seguiti e quindi per noi non è stato un impatto traumatico, ma educativo sicuramente. Grazie. Grazie. Grazie dottor Bonomo, grazie per la sua testimonianza. Io mi collego a quello che le ha detto. Abbiamo voluto fare un salto, diciamo, da un finanziamento classico a un basket bond per darci delle regole ancora perigide e andare incontro a un'educazione finanziaria incrementata, è una cultura finanziaria maggiore. Vorrei chiedere ai nostri relatori, chi vuole anche rispondermi, qual è la differenza per punti tra un finanziamento classico, bancario e un basket bond? Tutto così, per inquadrare. Se volete rompere un po' il ghiaccio, io. A livello di contenuti, dovrebbe da dire, poi Francesco, correggimi se sbaglio, i contenuti sono essenzialmente, sebbene si parli di regolamento, di un presto obbligazionario bond verso un fatto di finanziamento, poi i contenuti sono abbastanza simili, no? In termini di flessibilità nel poter fare determinate attività ordinarie o straordinarie, piuttosto che covenant e quant'altro. La durata è diversa, normalmente il bond ti aggiunge un po' di duration rispetto a un finanziamento bancario, chiaramente il finanziamento bancario entra, come menzionavo prima, in una centrale rischi, mentre il bond entra in centrale rischi. A livello di circolazione, con l'operazione basket bond, cosa che non ho menzionato prima, il bond viene sottoscritto da questa società veicolo di legge 130 e non circola nessun investimento. rimane là sostanzialmente fino a tutta la durata del bond. Con un contratto di finanziamento bancario, normalmente le banche ci tengono la flessibilità di poterlo cedere, sotto forma di operazione di calcolarizzazione, potrebbero diventare i tuoi interruttori fatalità, sapendolo degli investitori che ovviamente finanziano la banca indirettamente tramite l'acquisizione dei diritti relativi al portafoglio di finanziamenti a P&I e Midcap che hanno erogato precedentemente. dal punto di vista mediatico è chiaro che le operazioni fatte precedentemente hanno avuto un certo risalto, se promosse in forma di bond, cosa che magari un finanziamento bancario non ha, quindi può essere anche un'operazione un po' pedeutica rispetto ad acquisire una certa visibilità per l'azienda, i mercati dove poi può operare su altra scala, a scala equiti, piuttosto che a operazione. Questo in primis, diciamo, le differenze, come diceva Francesco, ti impone di riordinare un po' la casa, di andare a vedere se non già fatto sistematicamente qual è la reddittività un po' dell'azienda, dei singoli prodotti, perché devi parlare con un interlocutore che non ti conosce, a differenza di quando vai a richiedere un finanziamento. E questo è un'attività che ovviamente non è difficile, perché parliamo comunque di aziende che dovrebbero sapere quali sono i prodotti, la reddittività, i servizi, i mercati, di riferimento, i competitor e quant'altro, però ti dà modo di rinfrescare un po' anche una roadmap che l'azienda vuole intraprendere per crescere. Noi notiamo che l'operazione di bond da parte dell'azienda viene fatta spesso in un contesto che noi chiamiamo discontinuità, come diceva Francesco, può essere utilizzata per finanziare un'acquisizione, normalmente consente di incamerare all'azienda importi che sul bancario potrebbero essere acquisiti dall'azienda magari distribuendo l'importo su più banche, quindi anche dal punto di vista amministrativo il vantaggio può essere concentrarsi su l'emissione del bond in quanto utile nel caso per esempio di Retex a raccogliere quei 10 milioni di fabbisogno finanziario che altrimenti nel canale bancario potevano essere sicuramente magari raccolti però in forma polverizzata tra più banche con una complessità anche amministrativa e gestionale diversa rispetto a poi guardare la singola emissione. dal punto di vista dell'owner è diciamo informativo, i bond prevedono ovviamente il lascio, l'invio dei bilanci ai investitori approvati, l'invio di alcuni certificati qualora si facciano operazioni straordinarie per esempio di acquisizione, certificati che attestano a post acquisizione diciamo Covenant, rispettati e poco altro, forse è dialettica col canale bancario che è più frequente rispetto a quella che sia un investitore di un bond che è circoscritta a venti straordinari oppure annualmente tramite il rilascio di questi documenti c'è anche questa differenza. Sì, Alina posso aggiungere? Certo, certo. Per esperienza nostra il costo del bond non è un costo elevato, anzi mi aspettavo sinceramente i normali costi di finanziamento, come diceva Alberto, accedi a dei tagli di finanziamento più importanti, dal punto di vista di organizzarsi meglio nella comunicazione finanziaria, tu sei tenuto semestralmente a comunicare dei bilanci e a comunicare con i certificati, come diceva Alberto, il rispetto dei covenant, ma allo stesso tempo quando noi facciamo il bond, ovviamente ci deve essere un business plan della documentazione a supporto per spiegare qual è il tuo progetto industriale, che cosa vuoi finanziare? Noi facciamo il bond in un momento in cui presentiamo un business plan che ipotizzava una crescita che ci portava nel 2024, noi l'abbiamo fatto nel 21, a 66 milioni in giro d'affari. Sia il basketball che abbiamo fatto ci hanno consentito di fare, oltre a un aumento di capitale sociale che abbiamo fatto, due investimenti importanti, due nuove acquisizioni trasformazionali perché ci hanno portato a 90 milioni e questo implicava una revisione dei covenant perché di fatto il gruppo è cambiato. Noi attraverso sempre Fininter abbiamo comunicato queste acquisizioni e poi con loro, sempre presi per mano, abbiamo fatto una comunicazione agli investitori chiedendo una revisione dei covenant adeguati alla nuova struttura organizzativa, è stato presentato un nuovo piano e siamo andati in assemblea tutti insieme, abbiamo fatto l'approvazione di nuove covenant. Quindi ho trovato anche una situazione di cambiamento delle carte in gioco perché era stato fatto un regolamento sulla base di un'azienda che aveva dei volumi presentato in un certo tipo, nel giro di un anno è cambiata, noi abbiamo avuto la flessibilità di rivedere in tempi rapidi con loro, di rivedere i covenant e proseguire la nostra strada di crescita. Quindi rigidità da una parte e rigore dall'altro, ma anche disponibilità a seguire l'azienda e il suo percorso di crescita. Quindi per me rimane tuttora, a certe dimensioni, a certe strutture aziendali, un strumento molto molto valido per seguire la crescita e permettere la crescita dell'azienda. Grazie, grazie dottor Bonomo anche con l'attenzione che ha avuto a avere sulle domande rivolte da parte dei nostri ascoltatori e dell'editori. Lei ne parla quindi non solo di un'edopazione finanziaria incrementata, ma anche di alcuni cambiamenti strutturali dell'impresa che si sono dovuti aggiungere, che dal punto di vista negativo, anzi. No, 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 è positivo nel senso che a certe dimensioni il mercato finanziario richiede certe attenzioni. Suggerisco di farsi seguire da un advisor finanziario perché c'è un linguaggio, un regolamento in quest'ambito da seguire e se non si è fatta esperienza precedente è importante essere seguiti da questo punto di vista. Ho trovato nell'arranger che abbiamo avuto, una collaborazione molto molto positiva, cioè più un consulente tutto sommato che un ente professionale che si occupa poi tecnicamente dell'emissione. Bisogna sicuramente produrre della documentazione che attesti chi è l'azienda, cosa fa, quali sono i suoi progetti di sviluppo, bisogna anche spiegare agli investitori che investono su di te qual è il tuo progetto di crescita, perché altrimenti non hanno idea al di là dei bilanci sostanzialmente di cosa vuoi fare e qual è il tuo percorso. Quindi questo sicuramente educa a trasmettere informazioni in maniera strutturata e questo è utile soprattutto in un percorso in cui uno può pensare alla borsa un domani, perché poi diventa un'informativa molto molto più strutturata, molto più severa da questo punto di vista. Però è un avvicinamento in cui poi fai l'abitudine. Oggi l'idea di fare di nuovo un basket bond per me è come andare a chiedere un finanziamento in banca, perché conosco le regole, conosco le modalità, siamo strutturati per dare risposte, per comunicare diciamo periodicamente quello che facciamo e quindi una volta imparato il percorso lo trovo un ottimo strumento e soprattutto un ottimo strumento di marketing finanziario per l'azienda, perché si pubblica l'azienda in questo momento, accendendo al mercato delle obbligazioni. Non è un rapporto privato con la banca, come diceva anche il dottor Nobili. Certo, grazie, grazie Emilia. Io tornerei sul tema invece che un'altra domanda e penso l'ultima. Il tema, il nostro fattore esogeno che comunque ha portato anche all'ideazione di questo strumento che è il conflitto ucraina-russia, quindi al temporary framework. Un'impresa che ci chiede cosa significa in pratica per entrambi i progetti, che tra l'altro lei di Tornobile aveva questa slide che faceva differenza tra il support Italia di Sace e il basket bond sistema. Cosa significa per entrambi i progetti e se una società ha avuto perdite di mercato poco significative dovuto al conflitto ucraina-russia, può partecipare lo stesso? Sì, allora le due alternative sono appunto alternative e quindi insistono sullo stesso plafondo, sia ucraina che, qui vale a dire che l'importo massimo ottenibile pari al 15% del fatturato degli ultimi tre esertizi o se è maggiore il doppio dei costi dell'energia o se è maggiore l'importo derivante dei bisogni finanziari nel corso dei successivi sei mesi per le mid-cap e 12 mesi per le PMI. Quindi il maggiore tra questi tre importi, sia che si parli di support Italia, sia che si parli di garanzia del fondo centrale nel contesto dell'operazione del basket bond. Quindi l'importo è quello, si può utilizzare sia da una parte che dall'altra, nei limiti di importo, solo da una parte e solo dall'altra. Sappiamo che nel basket bond esiste anche il massimale che menzionavo prima del fondo centrale pari al 15 milioni di euro, che è una differenza rispetto ai supporti Italia dove questo massimale c'è. Da un approfondimento fatto, da più approfondimenti di fare in realtà con lo studio legale che ci sta assistendo nel redigere poi quella che sarà la documentazione dell'operazione, l'impatto sostanziale derivante della guerra russo-ucraina non deve essere necessariamente un impatto sostanziale diretto, cioè non necessariamente questa misura, anzi sicuramente questa misura non riguarda solo le aziende che hanno avuto in precedenza un'operatività in queste due aree e per cui è venuto meno una parte del business, una parte dei clienti, una parte dei fornitori, ma riguarda tutto l'apparato aziendale italiano che o direttamente o indirettamente ha risentito appunto del contesto geopolitico. In che modo? O tramite un aumento dei costi di energia dettato da questa situazione geopolitica o da un rallentamento della domanda dettato da maggiori incertezze capo a quella che è la clientela di quella specifica azienda oppure c'è stato un rallentamento anche nelle decisioni di investimento da parte dell'azienda dettato dalle incertezze derivanti dalla guerra e dalla situazione generale geopolitica. Quello che vediamo noi nel contesto delle aziende con cui operiamo, salvo le azioni, è difficile che un'azienda non abbia subito la situazione che stiamo ancora continuando a vivere, perché ha generato comunque o tramite una spinta inflazionistica dettata una riduzione delle materie prime che venivano prodotte in quelle aree, un aumento dei costi dell'energia oppure un aumento delle incertezze in capo ai consumatori, comunque tutte hanno risentito di questa situazione, chi più chi meno, chi più direttamente, chi più in maniera indiretta. Però non ci deve essere un numero da portare alla nostra attenzione, all'attenzione degli investitori, ci deve essere ovviamente stato un impatto tuttavia. Grazie. Grazie mille. Io ho domande, non ne ho. Probabilmente a seguito del nostro webinar, chi fosse interessato, anzi è invitato a contattare la propria associazione territoriale, le imprese che sono collegate con noi hanno avuto un modo di ascoltare l'illustrazione dello strumento e l'associazione territoriale le darà tutto il supporto di cui ha bisogno l'impresa, inclusivamente a contattare la banca a finito in quanto consulente e avventure dello strumento e di conseguenza procedere in tutto il percorso prestabilito. Io ringrazio i relatori, ricordo ancora una volta che la presentazione o le presentazioni con la registrazione dell'attuale webinar verranno pubblicati sul sito di Confindustria Lombardia. Vi saluto, ringrazio tutti i partecipanti, i nostri ascoltatori, vi auguro buon pomeriggio e buona serata. Salve, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Salve, grazie. 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 Grazie.